Siamo con Danilo Napolitano all'arrivo di questa tappa, tu ti sei staccato nel finale, sei passato nel luogo dove c'è stato l'incidente di Weyland. Sì, nella prima discesa dopo il primo GPM si è fatto veramente forte, però io l'ho visto già per terra, non ho visto come ha fatto accadere, non c'ho parole, non so cosa dire. Com'era il punto dell'incidente? C'era qualche difficoltà particolare? No, erano tutte curve, comunque con un asfalto abbastanza nuovo, però facendo le altre velocità così basta un piccolo errore e ti scivola la ruota. Comunque voi non sapevate niente? Non ci sono state comunicazioni via radio da parte della squadra? No, no, io l'ho saputo all'arrivo quando ho preso le bevande proprio all'arrivo, i massaggiatori, poi è una cosa che ho saputo proprio adesso. Ok, grazie.